E' Nicola Landolfi il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. La due giorni di congressi nei circoli del Salernitano ha confermato le previsioni della vigilia, assegnando al consigliere comunale salernitano, capogruppo dei progressisti per Salerno, un'ampia maggioranza. Ottimo il riscontro del neosegretario a Salerno Città, mentre soffre nel Cilento dove non raggiunge la metà dei votanti. La media, calcolata poco prima di mezzanotte sul 90% dello spoglio, attribuisce al neosegretario il 65% contro il 35% dell'altro candidato, il medico Vieri Galli. Landolfi, 40 anni, era sostenuto dall'area deluchiana, dalla mozione Franceschini di Andre Iannuzzi, di cui è coordinatore provinciale, dai bignani di Cuomo e da una parte della corrente eletta rappresentata dall'ex assessore provinciale Corrado Martinangelo. Gli altri lettiani, con il parlamentare Guglielmo Vaccaro, appoggiavano invece la candidatura di Galli. Le votazioni si sono chiuse ieri sera alle 22 con un'affluenza di circa il 70%. È la prima volta che il segretario è scelto con il metodo dell'elezione diretta, votato dagli iscritti nei 32 circoli territoriali. Insieme al candidato alla segreteria, gli iscritti hanno votato anche la lista o le liste collegate, determinando così gli assetti della nuova assemblea provinciale, la cui prima riunione utile è fissata per il prossimo 20 luglio, quando si dovrà procedere all'elezione del presidente, alla composizione della direzione provinciale, alla nomina del tesoriere e alla definizione della commissione di garanzia. 200 i membri dell'organismo collegiale, elettri da 500 candidati.